Sono stati colti con le mani nel sacco i due rumeni esperti in questo tipo di reati che ieri hanno svaliggiato ben sette o forse più distributori automatici di vivande all'interno dell'ospedale Santa Croce di Fano. La stretta collaborazione tra la direzione sanitaria del nosocomio fanese ed il commissariato della polizia di stato di Fano, come ha evidenziato il dirigente Stefano Seretti, ha permesso agli uomini della volante di beccare i due sospetti all'uscita del padiglione B dove avevano appena prelevato le monete da tre distributori al piano terra. La chiamata alle forze di polizia è arrivata alle 14.50 dopo che era stata segnalata la presenza sospetta di due uomini che armeggiavano nei distributori automatici aprendoli con delle chiavi che però poi si sono rivelate false ma che non avevano i riferimenti della ditta proprietaria dei distributori, la Liomatic. Dopo un rapido confronto della direzione sanitaria con la stessa ditta è scattato l'allarme e i due uomini sono stati fermati dagli agenti, arrivati in poco tempo sul posto. Sono entrambi di nazionalità romena, 18 e 42 anni, incensurati e da poco sul suolo italiano ma dall'accento spagnolo. Uno dei due aveva anche documenti spagnoli e che una volta scoperti però non hanno posto resistenza ai poliziotti. I distributori alleggeriti delle monetine accertati sono 7, 3 del padiglione B, 2 dell'ostetricia e 2 del laboratorio analisi. Addosso al 18enne in una borsa sono stati ritrovati le false chiavi e 441 euro tutti in monetine e per questo è stato arrestato per furto aggravato mentre il 42enne che era in sua compagnia è stato denunciato dato che addosso non aveva né contanti né strumenti da scasso e per il quale però si stanno compiendo verifiche ed accertamenti ma i due si ritiene che siano parenti avendo il medesimo cognome. Ora la polizia di stato sta ricostruendo gli spostamenti e verificando se i due sono gli autori di altri furti compiuti in altri ospedali ad Ancona e Perugia sempre ai danni della medesima ditta distributrice. Questa mattina al 18enne è stato convalidato l'arresto e il processo rinviato a prossima data.